La tentazione di essere felici è un romanzo il cui protagonista ci sarà annunziata. È un anziano, 77enne, che vive da solo, ha due figli ed è vedovo e a un certo punto della sua vita vive a Napoli in un condominio. A un certo punto della sua vita decide, nel sguardarsi indietro, fa un bilancio della sua esistenza e si accorge di aver gettato gran parte della sua vita, perché è un uomo che ha avuto difficoltà a scegliere, è un infelice, un uomo che ha sposato una donna che non ha mafi in fondo, è un uomo che ha fatto un lavoro che detestava, ha fatto il ragioniere per 40 anni, detestando il suo lavoro, è un uomo che ha avuto poco coraggio nei momenti fondamentali della sua vita, un po' per pregrizia, un po' non ha scelto di cambiare. A un certo punto nella sua vita irrompe, a 77 anni, Emma, vicina di casa, che ha un trascorso di violenza domestica, subisce maltrattamenti dal marito e questo incontro aiuterà Cesare, che nel frattempo, siccome è un uomo consapevolmente infelice, è anche un uomo arroccato, un uomo chiuso, che ha difficoltà a relazionarsi con gli altri. Lui dice, alla mia età ancora non ho imparato a porgere la mano senza tremare, è un uomo che per tutta la vita ha cercato di essere felice senza esserlo, ha sempre scalciato, dico io, alla ricerca di questa felicità anche al di fuori dell'ambito familiare, per questo ha trascurato i suoi figli e si ritrova adesso con un rapporto familiare, con un rapporto con i figli, difficile. C'è la figlia Sveva che è un po' il suo alter ego, un po' il carattere forte, un po' neurotica, che è una donna che si dedica completamente al lavoro, che trascura un po' il suo figlio. C'è il secondo genito, Dante, che invece è omosessuale, che non dichiara questa sua omosessualità al padre, è che forse è un po' il personaggio più positivo del romanzo, sono tutti i personaggi che tendono o tentano di essere felici alla ricerca della propria strada, della propria felicità. Dante forse è il personaggio più positivo, quello che ha già un suo equilibrio, già forse ha trovato la sua strada. All'interno di questa storia, di questa vita, il rompe Emma, la vicina di casa di Cesare, con il suo trascorso di violenza domestica e questo incontro costringerà Cesare a intervenire, quindi a ridonarsi agli altri, a tendere la mano, a ridonarsi agli altri alla vita e quindi a ridonarsi alle emozioni e quindi questo incontro cambierà anche il suo approccio, il suo modo di relazionarsi con i figli. Ce ne sono tante di persone infelici, è difficile cambiare, ci sono tante vite che seguono binari che non... spesso recitiamo copioni che non ci appartengono, ci stradiamo verso strade che non sono le nostre ed è difficile cambiare, per cambiare ci vuole coraggio, per prendere in mano la propria vita ci vuole coraggio ed è... Cesare è un uomo che non riesce, non riesce a modificare la sua vita, si lascia trasportare dalle cose, dal vento, spesso ci illudiamo, come si suol dire, è difficile uscire dalla propria zona di comfort, di sicurezza, riempiamo le nostre giornate di tante piccole cose che ci fanno sentire protetti, con le quali ci illudiamo di essere protetti, in realtà ci stiamo incatenando ed è difficile trovare il coraggio di rompere queste catene e cambiare strada, cambiare direzione. Io parlo un attimo di me, ho fatto l'avvocato per dieci anni, però già dopo i primi esami di giurisprudenza già sapevo che non era la mia strada, già sapevo di non amare il diritto, eppure ho impiegato, fra studi e professione, ho impiegato 15 anni per trovare il coraggio di cambiare e l'ho fatto proprio perché avevo difficoltà, perché mi ero rintanato in questo mio mondo dove credevo di essere protetto e l'ho fatto in un momento, la scintilla che mi ha dato la possibilità, il coraggio di cambiare, di lanciarmi nel mondo, di cercare di essere più in contatto con me stesso, con le mie passioni, con i miei desideri, che è poi un po' il messaggio del romanzo, quello di cercare di amarsi di più, quello di essere un po' più egoisti, nel senso positivo del termine, quello di essere più in contatto con il proprio io, e io sono riuscito a fare questa scelta, a trovare questo coraggio grazie a un momento di grande dolore, perché spesso è proprio il dolore che la scintilla appunto, che ci dà la forza di cambiare strada. Lo hanno definito in Italia romanzo di formazione, anche se io non sono molto d'accordo, prima perché l'età del protagonista, poi perché c'è sì un cambiamento, però Cesare non nasce come un diavolo per diventare un angelo, c'è una trasformazione, sarebbe irreale, c'è una trasformazione dovuta ad un incontro, dovuta ad una presa di coscienza, dovuta a un momento di coraggio. È un romanzo che parla di… io non volevo parlare di vecchiaia, io volevo parlare di vita, volevo parlare di scelte, dell'importanza di scegliere, Cesare dice a un certo punto, se dovessi dare un consiglio a mio nipote, Federico, il figlio di Sveva, sarebbe nella vita alcune volte avverti uno scampanellio accanto all'orecchio, il che può avvenire quando sei di fronte ad una donna che ti piace, quando stai facendo qualcosa che ti appassiona davvero. Ecco, quando avverti questo scampanellio, lui dice drizza le orecchie, no? Cerca di capire, di ascoltare, perché ti trovi davanti ad uno di quegli snodi invisibili nei quali è facile sbagliare strada. Io volevo parlare di questo, di scelte, di cambiamento, di rimpianti, di bilanci e quindi mi serviva un protagonista anziano, uno che avesse già vissuto la sua vita, che nel guardarsi indietro avesse un'ampia visione della sua vita. È un romanzo che parla di solitudine, di vecchiaia, di violenza sulle donne, però io se dovessi definirlo in una sola parola, dovessi definire un romanzo sul cambiamento. Commedia. È un po' il mio ambiente, il mio habitat, la commedia. Credo che la commedia, si piange e si ride, come nella vita, quindi credo sia la commedia ci permetta di descrivere al meglio la vita, le relazioni, perché poi io parlo sempre di dinamiche familiari, nell'altro romanzo ce ne sono ancora di più, però qui comunque c'è un grande rapporto genitori figli, insomma. E quindi la commedia, l'ironia, mi permette di affrontare anche tematiche importanti, però cercando di non essere pesante. Mi servo dell'ironia, credo che l'ironia sia un grande dono, innanzitutto nella vita, perché ti permette di affrontare le botte che ti dà la vita, cercando di attutirle. E poi nella scrittura ti permette di parlare di cose importanti senza diventare anche banale, retorico, pesante. Il romanzo in Italia è andato bene, molto bene, è stato un successo perché, fra virgolette, è successo, perché tra l'altro io ero un esordiente al primo romanzo con un grande editore, anche se avevo pubblicato due romanzi con piccoli editori. Con Longanesi, insomma, in Italia è arrivato questo... il romanzo è piaciuto tanto, credo perché ci si identifica nel personaggio, nei personaggi. Ho ricevuto tante dimostrazioni di affetto, tanti messaggi, mail, nelle quali i lettori mi dicevano proprio questo, la difficoltà di uscire da queste strade che non ci appartengono, l'importanza di vivere quotidianamente, di cercare di essere felici, di tendere a questa felicità. E quindi credo sia... è sicuramente un argomento che sta un po' a cuore a tutti e quindi è facile identificarsi. Per quel che riguarda il passaggio al cinema, c'è stato un produttore italiano che si è innamorato del... per fortuna si è innamorato del libro, lo ha proposto a Gianni Amelio che è uno dei più grandi registi italiani e hanno fatto questa trasposizione. Io non ho partecipato alla sceneggiatura, sono stato sul set da ospite, mi sono divertito tanto, sarà ovviamente come quasi sempre, insomma, ispirato al romanzo, però c'è un... guidato da un grande regista, poi c'è un grande cast, c'è Renato Carpentieri, Elio Germano, Giovanna Mezzogiorno, Greta Scacchi, Maria Nazionale, tanti altri, insomma, un gran bel cast e uscirà l'anno prossimo in Italia. Non posso che essere felice, a proposito di felicità, soddisfatto che un grande regista possa aver tratto ispirazione da una mia storia.